Ciao a tutti ragazzi bentornati nel canale già con X Vapo stasera siamo tornati con il nonnino c'è anche un grillo lì c'è anche un grillo pensavate che il nonnino fosse andato in vacanza bastardi bene nonnino cupice decap ice che dovrebbe sapere di la crema di caffè ghiacciata crema di caffè ghiacciata caffè ice head coffee cream ice head non nasco ovviamente lo proveremo su dead rabbit sq classico quindi questo dovrebbe sapere il decap classico ice con l'aggiunta di ice con il compresso da flevo 45 watt sa di coppa del nonno caffè caffè la nota classica del primo decap è uguale però vi hanno aggiunto l'ice vabbè dai nell'aria lascia il profumo classico del decap un profumo allucinante sembra veramente che di essere in una torre frazione è un po' ce l'ho messo parecchio ice discusa che è ghiacciato è veramente tanto ghiacciato per me alla terza sbappata faccio fatica cioè una sbappata va bene si una è giusta poi alla terza io già faccio fatica perché proprio ti ghiaccia la gola c'è proprio il ghiaccio qua dentro però è molto buono cioè un liquido buono è molto molto buono e devo dire che il connubio decap ice rende meglio il paragone con la coppa del nonno che è un gelato quindi è ghiacciato si è un po' più fedele alla coppa del nonno gelato però io lo preferisco normale sinceramente adesso non mi ricordo quanto gli avevamo dato nel decap normale però eh 9 eh si forse comunque era tanto io qua li devo dare un 7 solo perché c'è l'ice eh se non ci fosse l'ice vi sbappate il decap normale allora io nonostante non mi piacciono gli ice a questo gli do un bel 9 perché non lo so ma la parte ice secondo i miei gusti vanno a completare un po' di più il liquido cioè allora se vi pulite la bocca con altro non ice alla prima sbappata è buono però mi da sempre fastidio bastardi non dovevate metterla odiamo l'ice ovviamente questo liquido lo metteremo su un tank che smorza l'ice e dava fuori una bomba allora per me è buono però con l'ice gli devo dare un 7 perché che vabbè è sempre un voto sopra il 6 però preferisco il classico il classico molto di più classico quindi signori vedete voi cosa fare provatelo non provate fate quello che volete thecap ice googleatelo a qualche parte se lo trovate lo troverete sicuramente quindi iscrivetevi al canale seguiteci su instagram recensitaci su flavorito.it firmate la petizione che è sopra stefanello qua firmate la petizione perché sennò siete dei bastardi ci vediamo al prossimo video con il giro soffata di stefanello nell'obiettivo va bene ciao ciao